Weee! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODARONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDAR e ragazzi sfida di oggi ci chiede di ballare vicino agli alberi nei luoghi indicati. Il primo ad esempio lo trovate a sabbie sudate proprio sul molo, ci avvicinate, ci ballate davanti e l'albero numero 1 è fatto! Per quanto riguarda invece il numero 2 ragazzi potete tranquillamente raggiungere Corso Commercio e come vedete mentre la gente si scanna allegramente voi ne approfittate, vi mettete qua, ci ballate davanti e il numero 2 è fatto! Per quanto riguarda invece il terzo albero di Natale potete recarvi a Borgo Bislacco e come vedete vicino alle due case con le decorazioni natalizie troverete quest'albero, ci avvicinate, fate un pochettino un balletto e l'albero numero 3 è fatto! E arriviamo anche al penultimo albero, siamo a Parco Pacifico, come vedete vicino al campo da calcio c'è un alberello un po' striminzito ma comunque molto molto carino, ci mettiamo vicino, ci balliamo e l'albero numero 4 fatto! E siamo arrivati all'albero numero 5, Putrido Pantano, vicino al camion di Reboot, vi mettete qua ragazzi e molto tranquillamente andiamo a ballare anche per completare la sfida! Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live su Twitch, ciao! Grazie a tutti!